Festa, maschera e un po' di sana paura, quella che si trasforma in gioia e che esorcizza un periodo di cura e ricovero. Il Ponte del Sorriso porta a Halloween e reparti di pediatria di diversi ospedali, Varese, Tradate, Bustarsizio, Cittiglio, schierando volontari dolcetti e scherzetti con tanta fantasia. Una tradizione che ritorna, si amplia, si sviluppa, potendo contare su un team di volontari capaci di infondere allegria e buon umore in luoghi votati alla lotta e alla sofferenza. Si tratta, senza mezzi termini, della quintessenza dell'empatia che tra i tanti momenti vivaci segnala un vincitore assoluto, quale, che domande, il simpatico fantasmino che si aggirava con passo inquietante per i corridoi dell'ospedale.